La mattina leggo i giornali, apprendo dell'ennesima strage. Lui ammazza lei e poi si suicida. Stavano per separarsi. Nina ha 54 anni, è insegnante, ha due figli. Due occhi bellissimi in un volto stanco. Studio la scheda personale, nell'oggetto c'è scritto separazione per gap. Gioco d'azzardo patologico. Quando leggo gap so di dover affrontare una tragedia familiare senza rimedio. Il gioco andrebbe abolito, in modo secco e senza ambiguità. Invece c'è un giro di affari che fa comodo a chi dovrebbe tutelare i cittadini e le famiglie. Papà, ti prego, non farmi incazzare pure tu. Tira fuori le palle ogni tanto. Io non ho bisogno dei tuoi bei discorsi. Voi due siete una delusione totale come genitori. Una madre che a stento ti saluta e pensa solo all'amante. E' un padre bastonato che accetta tutto ciò che viene. Il nome della nonna e gli occhi azzurri della madre. Grandi come la curiosità che agita le domande impertinenti della sua età. Il fatto che una settimana prima abbia chiesto che avesse rubato la macchina, in realtà venduta, e domandato emozionata vedendomi in foto con un gruppo di carabinieri se mi avessero arrestato, mi ha dato due certezze. La deformazione è professionale e ereditaria. E farla addormentare deve rimanere una prerogativa della madre. Caro avvocato, la mia storia probabilmente non le dirà nulla di nuovo. Chissà quante ne vede e ne sente tutti i giorni. Ritengo tuttavia che anche le battaglie che inizialmente sembrano perse, vadano combattute. Restare insieme per sempre, nel tempo che viviamo, è in presa ardua. Le tentazioni e le offerte sessuali sono infinite come le vie del Signore. Non c'è più la crisi del settimo anno. Oggi si può divorziare anche dopo mezzo secolo di matrimonio. Basti pensare che il 20% di quanti chiedono la separazione o il divorzio sono gli over 65, i quali, interrogati sul perché della loro decisione di separarsi, rispondono di volesservi fare una vita o di voler provare nuove emozioni. Verrà il giorno in cui avrò smesso di cercarti, in cui ti confonderei di nuovo tra miliardi di persone. Ma questo nostro grande amore e tutto quanto esso ha rappresentato per noi resterà indelebile, accantonato in una parte nascosta del mio cuore. Mi sono commossa. Alberto, il nostro dialogo è finito. Sei sempre preso dalle tue cose e tutto questo sta minando il nostro legame. Spero solo che almeno come genitori possiamo condividere il nostro amore per Paola. Sabato nostra figlia avrà l'ultima recita in parrocchia. Da due mesi sta studiando il copione, molto emozionata. Sarebbe importante che tu ci fossi. Sarebbe la prima volta. La mia è una storia triste ed esaltante al tempo stesso. Ho sofferto tanto da quando sono nato. Sono qui per difendere la mia identità e le mie radici. Lo faccio anche per i miei figli. Mio padre si chiamava Carlo Alberto Melucci. Era nato nel 1904 in seguito alla relazione extraconiugale tra la signora Isabella d'Andrea e il conte Carlo Alberto Mele Barese. Mia nonna Isabella era sposata con Pietrantonio Melucci che improvvisamente scappò di casa per riparare in Brasile senza dare più notizie di sé. In quel tempo non era possibile divorziare e la confessione di un figlio adulterino avrebbe provocato seri problemi a mia nonna. Sono ancora giovane. Non lo amo. Non lo stivo. Ormai non siamo più una coppia. Spero di rifarmi una vita. Voglio che stia alla larga da me e quanto più possibile dai bambini. Sto male e sono molto preoccupata. Mio marito ha scoperto la mia relazione con Giancarlo che dura da alcuni mesi. Mi ha fatto pedinare da un investigatore. Sicuramente avrà fatto installare i microfoni in auto. Mi ha urlato di essere in possesso di tutti i messaggi e che li porterà dal suo avvocato. Le chat sono eloquenti. Io e Giancarlo ci amiamo davvero. È un tuo collega. In quei messaggi c'è scritto tutto dei nostri incontri, dell'intensità del nostro sentimento. Ci sono le nostre foto, i nostri progetti, il nostro amore pazzesco. Io non sono una donna per una semplice avventura sessuale. Io lo amo. Anche Giancarlo è sposato e ha due figli, come me. Mio marito ha minacciato di informare la moglie di Giancarlo. È fuori di sé. Lo capisco e mi vergogno. Ma dice che vuole togliermi i bambini, che sono una schifosa, una folle. Sono disperata. So di aver sbagliato, ma questo amore mi ha sconvolto la vita. È la prima volta che ho provato la felicità. Rispetto per la persona. Rispetto per un amore che finisce. Ecco cosa manca nei tribunali italiani. Manca il rispetto. Ho spiegato alla signora di stare tranquilla da questo punto di vista. Nessun tribunale potrebbe sanzionarla. Quanto al suo ruolo genitoriale, mi ha spiegato che il marito è iperprotettivo con i figli. Non vorrei che quest'uomo si faccia scudo dei ragazzi per consumare la vendetta di un uomo tradito. Siete pronte per incidere? Ma che ci facciamo qui?